Importante iniziativa oggi dei comitati dell'acqua che sono venuti qui in Consiglio regionale per esprimere il loro disappunto su dei ritardi mastodontici su un tema fondamentale come l'acqua. Infatti dopo l'approvazione della legge 5 del 2014 nulla più si è avuto proprio per attuare quella legge che ha posto in campo importanti obiettivi, come quello per esempio di ridefinire gli ambiti di bacino. Queste leggi la Giunta sta temporreggiando, non sta presentando queste leggi attuative di questa proposta del 2014. La domanda che tutti ci stiamo facendo è la stessa, forse c'è qualche interesse per portare il tutto dopo il 30 settembre con una legislazione incompiuta e così che il Governo ci possa commissariare. Questa è la nostra preoccupazione e questa è la preoccupazione dei comitati che sono venuti qua. Vi aspettiamo al Varco visto che oggi hanno preso degli impegni seri con noi e con i cittadini che hanno manifestato.